in esibizione per questa sera, spero di non solupiare il nome anche a loro uso un condizionale, anzi facciamo una cosa, presentatemeli voi la... musica Gioia Tauro questa notte musica Gioia Tauro musica Gioia musica Gioia Tauro 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 Grazie. 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 Che un movimento ragazzi, balliamo, balliamo. Grazie mille, buonasera a tutti. Noi siamo di Ashtray, veniamo da Reggio Calabria. E presenteremo quattro pezzi, uno già andato, del nostro primo album. Grazie.